tarta ten per otto persone 317 calorie a porzione per ingredienti quantità e valori nutrizionali visita il nostro sito e adesso cuciniamo pelare ed asportare il torsolo dalle mele e tagliarla a metà nell'altezza poi tagliare un lato così le mele potranno rimanere in piedi nella pentola facilitando l'assemblaggio della torta riservare i pezzi tagliati in una padella antiaderente ed adatta alla cottura in forno posizionare i pezzi di mela uno contro l'altro stretti e in modo ordinato per formare sulla parte esterna della padella una fila di miele come mostrato nel video la tartatè incuoce prima in padella e poi in forno infiolare i pezzi tagliati all'inizio in mezzo alle mele durante la cottura le mele si ammorbidiscono e questi pezzi vengono a tappare eventuali spazi in un tegame su fuoco medio sciogliere la quantità di burro indicata in ricetta il burro permetterà di ottenere mele estremamente gustose e morbide aggiungere ora nel burro lo zucchero e mescolare con un cucchiaio di legno finché si ottiene un composto perfettamente omogeneo questo preparato permetterà di rallentare la formazione del caramello mentre cuociono le mele versare succo di limone nel composto burro zucchero il limone esalterà il gusto delle mele golden e profumerà in modo unico il caramello che si formerà durante la cottura distribuire il composto di burro zucchero e limone sulla superficie delle mele in padella mettere la padella sul fuoco la fiamma deve essere medio alta la cottura delle mele in padella impiega da 25 a 30 minuti il modo unico di cuocere questa torta le conferisce un gusto finale diverso da qualsiasi altra torta mentre cuociono le mele rilasciano la loro acqua e si avvia la reazione necessaria a formare il caramello con lo zucchero tuttavia essendoci il burro la formazione del caramello è molto lenta e il caramello non brucia inoltre le mele che prima rilasciano la loro acqua riassorbono pian piano il caramello diventando pian piano morbidissime e deliziosamente impregnate di caramello quando il caramello si è formato togliere dalla fiamma e lasciar riposare per cinque minuti ora coprire la padella con la pasta brisé e con l'aiuto di un coltello ritagliare lungo il bordo della padella l'eccesso di pasta questo step spiega perché la quantità di impasto usato è ridotto e con meno calorie per formare il bordo della torta quando sarà cotta bisogna adesso con l'aiuto di un cucchiaio di metallo ripiegare la pasta verso l'interno spingendo le mele l'una contro l'altra per una torta compatta cuocere in forno a 180 gradi da 15 a 20 minuti una volta cotta lasciar riposare cinque minuti e rigirare la torta sul piatto di servizio con una rotazione decisa ecco pronta la tarta ten tradizionalmente la tarta ten viene servita tiepida tarta ten per 8 persone 317 calorie a porzione diabolica bon appetit